Benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è Edoardo Tavassi, dopo aver abbandonato l'Isola dei Famosi, pare aver rivisto la sua ex storica. La domanda che molti si pongono è però cosa ci facessero i due insieme, anche se molti sperano in un ritorno di fiamma. Ecco di chi si tratta, Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi rivede la sua ex. Edoardo Tavassi, reduce dall'esperienza all'Isola dei Famosi, attualmente è tornato alla sua vita di sempre. Ma potrebbe aver anche fatto un salto nel passato e non essere rimasto solo nel presente. Cosa sappiamo della sua vita privata? Che attualmente è single, ma che ha avuto una storia molto importante con un'attrice famosa, Diana del Bufalo, con cui avrebbe chiuso circa un anno fa. Lei stessa ne aveva parlato in passato molto spesso ed anche dopo la loro rottura aveva scritto un lunghissimo post per lui, in cui lo aveva definito un, angelo custode, ed aveva ammesso che senza di lui non sarebbe mai arrivata alla sua crescita e dalla sua guarigione. Su di loro aveva detto, non direi che la nostra storia sia finita, niente finisce. Lo so che per alcuni di voi sembra assurdo lasciarsi senza un motivo disastroso ma accade anche che la vita ti regali maestri meravigliosi e che loro poi debbano insegnare altrove. Stiamo bene, lui è al sicuro e io più. Questo è quello che conta. Di loro ha parlato anche la madre di Edoardo Tavassi intervistata dal settimanale Mio. La donna ha ammesso che la storia del figlio con l'attrice è finita a causa di alcune cose irrisolte che lei aveva con il suo passato. Tutti quindi hanno pensato che queste cose riguardassero Paolo Ruffini, con cui la del bufalo ha avuto una lunga storia prima di incontrare Tavassi. Nessuno dei protagonisti però ha voluto parlare nuovamente della faccenda e quello che sappiamo oggi, stando anche alle parole sempre della madre di Edoardo, è che comunque i due sono rimasti in ottimi rapporti e si sentono molto spesso. La donna, però, non aveva escluso un ritorno di fiamma, soprattutto alla luce del fatto che insieme li vedeva, affiatati e carini. Questo ritorno c'è stato, i due sono stati beccati insieme di recente. Un ritorno di fiamma in atto, quando Edoardo Tavassi ha lasciato l'isola dei famosi ha rivisto la sua ex, Diana del Bufalo. Così pare. E c'è anche un video che lo testimonia. I due, infatti, si sono fatti vedere insieme, presumibilmente a Roma. C'è un però, non erano soli. Con loro infatti c'era anche Nicolava Poridis, vincitore di questa edizione del reality e molto amico di Edoardo. I tre sono stati protagonisti di un simpatico siparietto, in pratica Edoardo e Diana hanno scherzato sul fatto che ad entrambi stesse antipatico l'attore, che è arrivato proprio in quel momento, fingendo di arrabbiarsi per le loro parole. Fin qui tutto bene, ma in molti si chiedono cosa ci facessero insieme Edoardo e Diana. Potrebbe darsi che i due sono rimasti solo buoni amici, cosa che di fatto avrebbe detto la madre di lui nell'intervista rilasciata a Mio, ma anche lei non aveva escluso il ritorno di fiamma, quindi staremo a vedere se ci saranno nuove evoluzioni. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione.